ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video dove oggi finalmente andiamo avanti con il nostro programma e oggi vorrei illustrarvi la celebra canzone di roberto vecchioni samarcanda di questo brano faremo un bellissimo laboratorio di suono appena potremo rivederci dal vivo ma intanto voi potrete già adesso in questo periodo preparare tutte le note voce 1 voce 2 flauti tastiere chitarre perché c'è anche il tempo giusto per farlo allora ok come vedete sulla partitura troviamo la voce 1 e la voce 2 sono le due voci che possono essere flauto 1 flauto 2 ma possono essere la mano destra delle tastiere e la mano sinistra per quanto riguarda le chitarre possono inizialmente suonare le melodie e poi ho posto sotto la partitura in mezzo del sistema ho posto gli accordi questi accordi saranno utili per preparare poi il laboratorio di accompagnamento ok oggi iniziamo a vedere la voce 1 adesso ve la eseguo e poi così voi sulla vostra partitura potrete seguire come si suona ecco adesso eseguo la parte della voce 1 di samarcanda e Ok. Vedete che ho eseguito tutto fino al primo ritornello. All'inizio c'è un'introduzione, quel 4 che vedete nella partitura sono le 4 battute che dovete aspettare all'inizio. Dopodiché ci sono 4 battute di giro armonico di sol e poi inizia la melodia. Adesso eseguo la parte B, cioè la seconda parte, la sezione di contrasto, vado avanti sempre con la voce 1. A questo punto ricomincia il ritornello principale e si ripete quindi la prima parte. Quindi in sé la canzone non è difficile, è soltanto provare bene le parti voce 1 e voce 2. Adesso eseguo la voce 2 che può essere un flauto o può essere anche la tastiera, poi vedremo. Allora voce 2 Allora voce 2 E poi il suo ritornello. Avete visto che il brano è scritto nella scala di sol maggiore. Infatti abbiamo in chiave all'inizio il fa diesis. Il fa diesis, lo sappiamo benissimo, si esegue con un do senza fa. E quindi ovviamente chi suona la parte del flauto 2 ne ha tanti di fa diesis da fare. E ha anche da studiare bene questo passaggio. Mi 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 fa diesis mi. Ok. Vado avanti con la parte B della voce 2. Via. Ok. Io vi ringrazio. e vi auguro buono studio per questa prima infarinatura di Samarkand